Here we go for our video tools for the day yes first of all as always it's a friday once again and as a very friday I shaved my bed with this fantastic electric blue black and green is all only 80 euros very cheap very great poi preciso sempre che chi non avesse mai visto questi pensieri del venerdì ogni due settimane taglio questa parte qui infatti oggi ce l'ho e ogni settimana questa questo perché ho come modello di riferimento Aragorn del signore degli anelli ovviamente come dico sempre non somiglio né alla appunto a lui né all'attore grandissimo Viggo Mortensen che tra l'altro ritorna il nuovo film di David Cronenberg ma semplicemente diciamo assomiglia appunto mi piace la sua barba il suo stile eccetera quindi questo poi tra l'altro invito sempre a vedere quello che prima qualche fino a qualche settimana fa era il mio vecchio trailer del canale che diciamo è il secondo video più visto in cui parlo appunto anche di questa questione della barba oltre a farmi delle domande sulla camicia nera di mister Lynch e sì è diciamo anche divertente questa parte appunto quando parlo della barba anche ispirato da un pensiero di Shakespeare magari metto sempre il link in descrizione andatelo a vedere se poi it's a Friday once again in the series Friday I've seen my favorite show on cinema conducted by the mythical Gigi Marzullo on the main channel here Rai Uno and the show sul cui diciamo nel quale ripeto sempre si commentano a parte di critici attori in studio in collegamento i film usciti in settimana ma anche da parte del pubblico dopo la proiezione ad uscita sala poi anche si commenta la classifica ai film per incassi il botteghino con giudizio anche su questo eccetera ma soprattutto il conduttore appunto Marzullo pronuncia questa frase all'inizio alla fine della trasmissione ma anche durante insomma certi momenti durante il programma la frase che è questa buonanotte cari amici di Rai Uno il cinema è sogno il cinema è cultura il cinema è libertà cioè cinematografo i film della settimana i critici il pubblico i protagonisti eh sì il cinema è sogno il cinema è dream il cinema è culture il cinema è freedom create fruit create fruit Point 3, it's a Friday once again It's a very Friday I'll watch my favorite program Un art, anche se Art Night, on Channel 23 Anche se stasera ho saputo che non lo fa Non lo fa se non erro Per fare un programma Per la strage Nura della La strage della mafia Abbiamo festeggiato Ricorso anniversario il 23 maggio scorso L'uccisione di Falcone In Borsellino, certamente saprete La fama di questa cosa internazionale E quindi, allora vedrò Sicuramente anche quest'altro programma interessante Al posto di Art Night stasera fa questo Ma sempre se ho tempo Perché io in realtà non vedo più le cose come prima La stessa attenzione da quando ho i canali Non so nemmeno io Che cosa riesco a vedere, ma comunque Qualcosina cerco sempre di capitare Poi, point 4 It's a Friday once again, and it's a very Friday I should upload the next episode of the music series Mai, ma soprattutto i mister lì C'è visto che la frase l'ha inventata lui La frase di Calcio Il benedì Comunque dovrebbe essere il 39esimo episodio oggi E non so ancora su che cosa C'è forse sempre su uno dei miei motivi Per quanto riguarda la parte su sefra di Juan Seghini Anche se non lo so Però, diciamo che Potrebbe essere in generale Il sottofondo Shadow dei Chromatics La mia nuova interpretazione Questo perché Praticamente ieri qui E come sapete anche Cinque giorni fa Anzi sei giorni fa A Cannes e poi negli USA È stato l'anniversario appunto Della parte 1 di The Return E da noi in Italia invece Appunto Ieri E quindi In virtù di questo Aspettando anche il giorno qui da noi in Italia Ho pensato di Fare una nuova versione del pezzo Sempre una in stile più o meno La strumentazione originale E un'altra con il mio strumento preferito Come sa qualcuno È il CP80 appunto Dalla mia grande tastiera Dalla mitica keyboard Yamaha Digi 640 IPG 625 Sì e quindi Spero diciamo Possa Possa piacervi La versione dell'anno scorso Purtroppo Non si sentiva molto bene Audio molto basso Poi Era un periodo in cui Ancora non ero esperto di Comunque non faceva ancora Una serie di modifiche agli audio E poi in quella stanza Che era il salone Mi sono spostato Alla mia stanza A suonare diciamo Dalla Dalla Giugno Fine giugno All'anno scorso E quindi sì Per questo si sentono sempre Sentivano sempre dei rumori In sottofondo Quello più televisivi Che purtroppo Non dipendevano da me Ad ogni modo Poi io come Andate a vedere pure il video Pesino su L'anniversario Twin Peaks Da return Che ho fatto il 21 maggio Poi ho caricato il 22 Mi sembra Però là già ho detto Delle cose E ho detto Di sfuggita Anche una cosa Che Nel periodo in cui Diciamo Facemmo qui Rewatch Io raggiunsi il gruppo Perché lo iniziai In realtà con una mia Conoscente anche Le grandi fan Di Twin Peaks Vedemmo fino Già ho detto questa cosa In quel video Vedemmo fino A Firework With Me Tra l'altro Dalla prima stagione Tra l'altro Iniziamo l'8 aprile 90 Proprio per l'anniversario Già non l'anniversario Del pilota La prima serie La prima stagione Del 90 Negli Stati Uniti E arrivammo insieme A vedere Firework With Me Diciamo Con anche Missing Peaks Però Peaches però Non separatamente Ma all'interno del film Anche in senso logico Cosa che consiglio di fare Cosa che già ho detto In quel video Magari andate a vedere quello Operazione che consiglio di fare Perché così In quel modo Il film È come se durasse Mi pare 3 ore In senso unità È molto più interessante Del film così Capite anche altre cose Anche se Ora non lo vedo Da un po' di tempo E pare proprio da quel momento Il film E quindi Diciamo Nel dettaglio L'ho perso la memoria E ho detto Che però Poi appunto Poi dopo In realtà Io praticamente Fici appunto Le voci The Return Da solo E poi raggiunsi Il gruppo ufficiale italiano Che aveva iniziato Due settimane Prima di Il 25 marzo Lo raggiunsi Comunque Per la Diciamo Le parti finali Del 3x Return Vedemmo insieme Praticamente Dal 11esimo Al 18esimo Alla 11esima Alla 18esima parte Tra l'altro Questo sito È affiliato Al sito italiano Dedicato a David Lynch Fondato da Matteo Marino Che è anche uno Di gli amministratori Di questo gruppo E appunto Però Disse di sfuggita Una cosa Che si ricollega Anche a Matteo Marino Perché qui Adesso Vi faccio vedere Una cosa Alla 18esima parte Grazie a tutti. Sì, come avete visto, quella, diciamo, questa, praticamente la mia collezione di libri dedicati a David Lynch e a TwinPix che ho letto finora, diciamo, due anni fa ho letto tutti questi libri, sostanzialmente, anche un po' più, però appunto, dicevo, se avete visto quel libro di Matteo Marino, è il libro suo che ha scritto, pubblicato, tra l'altro, poco più di quattro anni fa, un anno dopo, da Return, e si chiama I segreti David Lynch, non so se ci sia anche lì qua straniera, non credo. Ma comunque è un libro da consigliare certamente ai fan italiani, il maestro, quelli più accaniti, perché... Sì, perché, diciamo, come ripeto, consiglio di leggerlo perché veramente va nel dettaglio, ma il resto è scritto con una passione incredibile, quindi questo è, diciamo, per questo libro in qualche modo risulta ancora più interessante. Si fa piacere, se non è principalmente questo, ma anche per altri, ma soprattutto quello che volevo dire in realtà era che quei due libri poi, forse vi faccio vedere in un... Praticamente è questo, che è le vite segrete di Twin Peaks, è questo che il dossier finale di Mark Frost, ma anche le vite segrete di Twin Peaks di Mark Frost, è il continuo, diciamo questo. Anche se già ve l'ho fatto vedere prima, quando ho quadrato la collezione, comunque sono i due veri libri che lessi, appunto nel... Durante, mentre noi stavamo, insomma, facendo il rewatch, stavo facendo questo rewatch di Ritane, quando poi raggiunse, appunto, il gruppo, ovviamente lo vediamo alle nostre case, ma poi commentavamo dopo la fine delle parti su Facebook, e io con loro vidi praticamente all'episodio Heartbreaking, Oh, thank you Mr. Jackpot, praticamente all'episodio 11, Heartbreaking, in cui si sente Heartbreaking, di Angelo Badalamenti, fino all'episodio 18, cioè alla parte 18, perché si chiamano parti in realtà, Ma per Ritane si definisce un film alla durata 18 ore, o diviso in 18 parti, come ha detto, prima di tutto, lo stesso Mr. Lynch e poi da tanti critici, oltre al fatto che è stato definito, è Cagliere Sui Cinema, la più orreale, l'erista francese più importante sul cinema, praticamente il film più importante della decade, che non ci hanno raggiunto, comunque dicevo, e tra l'altro poi di questi pezzi, di pezzi di Ritane, io sono l'unico interprete, andate a vedere un po' sul canale tastiera, come pezzi, per esempio, come di Angelo Badalamenti, Accident Firewall Team, The Fireman, Heartbreaking, ma versione completa, perché ci sono tre varianti, la Slow Fashion, la Fast Fashion, e poi anche Windswept, penso, sono proprio uno di pochi interpreti, Ma anche altri pezzi, da Twin Peaks, come Montage from Twin Peaks, Firewalk with Me, e l'Opening Sax T, ma forse anche qualcun altro al momento, ma mi spugge, comunque l'importante sono quelli di The Return, anche The Share, altro grande pezzo che è collegato al maggiore Briggs, Se comunque vedete un po' la playlist Twin Peaks del Ritane 2017 sul canale tastiera, e questi pezzi, queste interpretazioni le trovate tutte lì, e poi, se volete verificare quanto sto dicendo, basta cercate nel modulo di ricerca i pezzi, vedete che, subito dopo i pezzi originali di Angelo Badalamenti, appaio io, In particolare con The Fireman, The Share, e Accident Firewall with a Team, e Montage from Twin Peaks, subito dopo i pezzi originali, appaiono le mie interpretazioni, Diciamo credo, anche perché la gente vorrebbe gli spartiti, ma non ci sono di questi pezzi, e io nemmeno, tra l'altro, so trascrivere, perché per quanto io sono bravo, in realtà sento tutta d'oricchio, ma non so trascrivere la musica sugli spartiti, Anche perché, no, no, né titoli, né diplomi musicali, ho studiato soltanto qualche anno di pianoforte privato, diversi anni fa, diciamo quattro anni e mezzo, più o meno, ma appunto non so trascrivere la musica, tutto il resto appeso al massimo, posso fare tutorial, ma, cioè, per il fatto che carico tutti questi video, non ho tutto questo tempo per farli, Infatti, solo qualcuno, qualche mese fa, su Mololand Drive, sono stati proprio i miei primi tutorial, diciamo così, tra l'altro, che dovevano anche abbastanza bene, insomma, Comunque, ricevo, questi due libri, sono i libri che io, praticamente, ho letto durante questa visione del Twin Peaks The Return, questo primo rewatch, appunto, che è stato solo di un primo rewatch per me, Sia delle prime due stagioni di The Return, comunque, appunto, sono dei libri molto interessanti, perché Mark Frost e la sua visione, poi, non ha scritti David Lynch, Completa, diciamo, quello che è un po' altri temi, completa un po' i temi della serie, approfondisce certe questioni, e soprattutto, però, Le vite segrete di Twin Peaks è il primo libro, il primo capitolo, Poi si perde un po' perché parla di questioni di UFO, insomma, e poi le connette anche a Twin Peaks, insomma, però, secondo me divaga un po', ma questa del resto non è le tipiche questioni americane, Quella degli alieni, in qualche modo viene messa sempre in mezzo alla cultura americana, ma comunque, però, è interessante per tanti motivi, per questo è un po' meno, però, il dossier finale, Che è il continuo, diciamo, che è proprio connesso a The Return, e, appunto, dà la chiave di lettura su tutta una serie di cose rimaste in sospeso, su molti personaggi, sulla fine certi personaggi, Spiega anche alcune cose che, tramite la serie Fire Walk With Me e The Return, in qualche modo, ci sono un po' più oscure, in un certo senso chiarirebbe certi punti, però, ripeto, è la visione, anche su certi personaggi, appunto, Però, la visione di Mark Frost non è quella dei video principali, non possiamo sapere se quella di Mr. Lynch è la stessa sua, però, ad ogni modo, sono consigliatissimi A quelli là, a quelli che non hanno mai letto, ovviamente, io credo che, essendo, confrontandomi con un pubblico di fan, certamente le avranno letti, però, io, comunque, Li consiglio, assolutamente, a chi non le avesse mai lette, per approfondire, detto, comunque, che Rimaniamo sempre nei più grandi dei misteri, perché, appunto, non è detto che sia veramente come dice Frost, Avremo, certamente, bisogno, anche, di un continuo, io spero, ovviamente, che ci sia, perché, di ulteriori cose, questo Quisterio, Ricordo e De Natti, di cui si parla, spero, veramente, sia questo, il continuo Però, fin quando, purtroppo, sapete, soltanto voi ci in giro, l'ultima canna, quando si è stata la notizia, più di un mese fa, che David Lynch avrebbe presentato questo progetto a canna, poi, smentita lui stesso Ovviamente, secondo me, fin quando qualcuno non dirà, a un certo punto, non farà un annuncio ufficiale, non ci sarà mai nulla Però, diciamo così, il progetto c'è, perché è stato confermato da Peter Deming, direttore della fotografia di Molloland Drive E, anche in Pixel Italia, anche in Strade Perdute, se non erro E, appunto, fu confermato stesso all'intervista, dall'altro, dai due miei connazionali italiani E, quindi, se c'è, vuol dire che ci è stato un po' messo da parte, ma, prima o poi, secondo me, qualche cosa accadrà Quindi, abbiate fide, lo so, l'attesa sarà ancora lunga, ma abbiate fide tutti quanti Abbiate fide tutti, che qualche cosa, prima o poi, verrà rivelata e avremo, finalmente, una verità Però, io, davvero, spero, possa trattarsi qualcosa in relazione con Twin Peaks D'altra parte, secondo me, Wisteria potrebbe essere il titolo della serie Un Recorded Night, l'episodio pilota, pensando alla notte di Carrie Page e Richard In quel caso non è più Cooper, come sapete Pensando di partire proprio da quella parte lì Un Recorded Night, la notte non ricordata Potrebbe essere proprio, come sto dicendo, anche se questa è una teoria avanzata da vari fanno Comunque, vedremo Tra l'altro, mi sapete, anche altri atturi, tanti atturi della serie, in passato, un anno fa Più o meno hanno postato foto della pianta Visteria Insomma, ci sono tante cose che potrebbero far pensare che effettivamente si tratti veramente di un continuo O spin-off, non lo so, comunque qualcosa relato a Twin Peaks Vedremo, magari di qualche altra cosa in descrizione, altrimenti già ho parlato assai Anzi, vi ringrazio sempre per la grande pazienza, il coraggio che avete Quei pochi che hanno di vedere questi video, non lo so, ma forse non li vede nessuno Ma comunque, mi piace parlare di cose interessanti quando parlo Sì, alzi, io ne vedete tutti, se fai due, torto un oro